Espianto multiorgano per una donna donatrice dell'età di 41 anni. Il tutto con un'operazione che è stata condotta dal dottor Francesco Diurno. È stato praticantato il tutto presso la sala rianimazione dell'ospedale Santa Maria delle Grazie del distretto dell'Asl Napoli Due Nord. L'espianto è stato realizzato con il supporto e la collaborazione dell'equip della Federico II e Cardarelli di Napoli, del Ruggi d'Aragona di Salerno e dei medici oculisti del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Si è trattato infatti di un complesso intervento il quale va a confermare l'alto livello di efficacia del gruppo di medici ed infermieri dell'unità operativa dell'anestesia e rianimazione. Inoltre la sensibilità della famiglia della donatrice, la quale in questo caso ha consentito all'espianto degli organi malgrado il grande dolore dato dalla perdita. Si tratta di un atto di generosità, così riporta l'Asl Napoli Due Nord, che afferma in un comunicato stampa, che cade nella settimana di riflessione sull'importanza della donazione d'organo, una ricchezza da salvaguardare che, grazie ai progressi della scienza avvenuti nel campo dei trapianti, può restituire luce, speranza e vita a tante persone, ai donatori e alle loro famiglie, cui va la riconoscenza e il ringraziamento di tutti. Conclude così l'Asl Napoli Due Nord